www.feyyaz.tv Il mio telefono sta suonando E come può essere la storia? Ci ha risponduto? Ci ha detto che non ci sogno io? Io lo prendo E va bene lo prendo io Pronto? Ditta Spaccatutto Hello Ditta Spaccatutto Ciao! Buonasera E io sono segretaria di Conte Sanguinaccio Ah che non lo so in cielo? No non capire, Conte Sanguinaccio Sanguin Ma qui è il cammelo Sare che c'è il cappuccino qui Bestia, Conte avrei bisogno di restaurare Grande castello Ah un castellossino Ma non c'è il sinucro bianco, giusto? No, no! Ma io chiamare da Londra English Ah lei chiama da Londra allora Allora ma scusate Il Conte Sanguinaccio le offre 50 milioni al giorno 50 milioni per sistemare il castello Più vinto Alloggio, aereo pagato, lavatura, stiratura E' un conto di 100 milioni per piccole spese Hai capito? E le piccole spese? E in più premio per divertimento Stiamo mettendo il suo potere Oh dimenticavo il piccolo problema E che problema c'è? Quando arrivare all'aeroporto Trovare il giovane tassista Suo nome è Sanguinello Eh, buono Nel porto di Conte Ah io ne poterò il Conte Sanguinello Lui vi accompagnerà fino a un certo punto perché dopo c'è grande foresta E poi non ci viene? Vi lascia lì Puoi fare due chilometri per arrivare al castello E mi chiedo questa parola E con 100 milioni per la montagna per... Ok, allora capito tutto Ci vediamo domani a Londra? Va bene, subito battiamo Goodbye! Voi! Voi! Ehi, veneno dottor Bosca Ma qual è la partita? Sarita! Preparare valide! Mentre direlli Mentre direlli Mentre murano, quassette Da frito fa A Jaquelinio Mentre di vacanelli Che ne sogarmo d'anno La parecchia Poi metadilla Mentre aguarda avisa tutto E chiamo fare un lavoro Do castello Poi che numero è il numero regamelo 25 25 30 Ah, quando faccio? Prendiamo qui a casa Pronto 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 Oh, cammelo Che buona Che buona E' un amore Allonja 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 E' un bello lavoro Buono E' un capo di 500 milioni Buono, buono Pico, non sono buono Come qui devora Come qui di da Bestia, questa è un capo Se tu compote buono 500 milioni E' un euro E' un euro Anodo Anodo E' un euro E' un euro Anodo Lo capisci no? Si Va bene, ciao E' un euro E' un euro Davide Ora voliamo Volevo Se la france principatica Innamorèi a principatica Cincipatica 25 Richerotto 50 20 Visto sarà Visto Volevo Quattro stamattina Pronto, famiglia Cintipati! Pronto, come è? Mi chiamo il suo marito? Il mio frate, non è il mio marito! Sì, sì, mi chiamassi! Mi chiamo! E questo è quello... Pronto! Oh, Cintipati! Così! Che ho il sogno? Così! Abbiamo un bello trovacchetto di fare! Sì, ma così! Così! Come non batti? Ma batti per forza! Come batti? Siamo tutta vita, perciò ma batti! Non è un po' di capi! Così! 8000 mili! Non so peccato! Come è che dà? Non, non è un po' di capi! Non, non è un po' di capi! È meno male! Perché non batti! Si stagliate, non è un po' di capi! E non è un po' di capi! Non è un po' di capi! Se batte subito! Se batte subito! Va bene! Ma non batti! Ma batti! È zè! È zè! È zè! Vì, che si è un po' di capi! Non è preso! Pula parecchio, non è un po' di capi! Pula parecchio? A Londra! A Londra? Pula parecchio! A Londra, a Londra! O Com Jesper ch одного. Sì, sì. Non ti lo fazendo! Non ti lo heavürei così! Non ti lo faccio! Ma non è neppi! È zè, è sì! È śè! È sì! Il mio nome è il suo nome. 850 milioni per il momento. Ora chiamiamo l'altro, il signor Sucamela. Sucamela, sucamela, sucamela. Sucamela, sucamela. Non muro. Entravano 100 milioni. Da un punto. Ma poi è il suo ultimo mancosaggio. Andiamo qui. Suca, suca, suca. Pronto? Pronto? Devo fare scandale quando mi chiuderemo. Così? Ma così? Sucamela, suamela mattina. Unè. Unè. Allontra. Siamo nel castello. I bambini. Ma quello bambino è il tuo castello. Non ci può essere i bambini in tuo castello. Noi siamo nel conte. Il conte sanguinaggio. Il conte sanguinaggio. Il conte sanguinaggio. Ma che tu sovi? Sovi? Ora, guadagniamo buoni. Quando? Ossia che ha pagato 400 milioni. Il conte. Ma sono come il tuo occhio bene. Il conto è 450. Grazie. Io rispetto. Grazie. Com'è? Ma'è? Mi raccomando. Ma'è? Ma'è? Romana mattina. Ossia che è messa. Ossia che vediamo all'aeroporto. Ossia che era prima. Perché lei quando parla. Che stai a fare? Ma'è? Ma'è? Buonanotte. Buonanotte. Ma'è? Ossia che stava lì già. Ossia che a quanto pare chi sono? Vieni, che a destra si è fatto? Uff. Sarita preparami tutte le cose magari a mio. Andiamo a cuccare. Romana. Ma che è su? Ah, e a giusto ecco di questa baracca. Che domani alla conquista dell'onza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.